L'annuncio è arrivato direttamente dal Presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto, quello che la direzione operativa dell'ANAS ha elaborato definitivamente il progetto finale dell'intervento sulla Galleria Limina. I lavori infatti avranno inizio entro il mese di marzo, in piena coerenza con quanto era stato previsto dalla Regione e naturalmente senza alcun allungamento dei tempi complessivi dell'appalto. Il Presidente Chiuto lo scorso fine settimana aveva incontrato i sindaci e le organizzazioni sindacali per discutere in merito ai lavori sulla Galleria Limina, un intervento che rischiava di creare enormi disagi e pesanti ricadute sulla viabilità. Dunque verranno previsti, da quanto annunciato, lavori notturni senza mai chiudere la strada o la galleria ai mezzi in transito. Una soluzione che è piaciuta sia ai primi cittadini ma anche ai consiglieri regionali, tra questi la soddisfazione del consigliere Domenico Giannetta, dopo l'annuncio che la Galleria Limina non chiuderà i collegamenti tra Piane e Locride. Nessuna interruzione dunque, al massimo in notturno, senso unico alternato. Una bella notizia questa per Giannetta, in particolare per i cittadini, ma per le amministrazioni comunali, per i commercianti, ma anche per il turismo e per i lavoratori, insomma proprio per tutti. Per la Giannetta la Locride è una zona bellissima e non poteva rimanere isolata. Hanno fatto bene i sindaci ad unirsi a fare fronte unico comune per chiederne la tutela. Sforzi ripagati ovviamente dall'ottimo lavoro del Presidente Chiuto e di tutta la Giunta regionale.